Ma nasce dalla congiunzione della nostra esperienza professionale e didattica di scuola, scuola media, istituto comprensivo Manzoni in particolare, con l'esperienza sulla pace del Rotary International e quindi del distretto 2110 Sicilia-Malta. Nell'ambito di queste iniziative che ci hanno visto come scuola, presenti nei meeting di Udine, di Roma, di Assisi e naturalmente nell'organizzazione della Marcia della Pace, che abbiamo fatto il 25 maggio a Ravanusa, nella partecipazione alla Marcia della Pace, la Perugia-Assisi dell'ottobre 2018, e nell'ambito dell'altro lato di manifestazioni e di eventi che il Rotary fa per la pace, perché devo ricordare tra parentesi il Rotary International promuove le borse per la pace, ha creato e sono molto operanti i centri per la pace del Rotary International, quindi è nata fuori nell'ambito di tutte queste iniziative, diciamo da un lato professionali e scolastiche, dall'altro lato, insisto, rotariane, così tra virgolette, è nata la proposta del progetto Il Rotary per la pace. È un progetto che è stato fatto, diciamo, dalle Rotary Club di Canicattì, in collaborazione con i Rotary Club di Caltanessetta, di Agrigento e di Licata, e che ha visto protagonisti, diciamo, le scuole soprattutto, perché il messaggio che si vuole dare è quello non solo di una pace come assenza di guerra, ma di una pace positiva che tenda al miglioramento delle condizioni di un territorio di riferimento, diciamo, del contesto che c'è proprio. E quindi si tratta di una pace per la quale ciascuno di noi, diciamo, ha delle responsabilità e si assume le proprie responsabilità. È un evento che è partito, con il mio anno rotariano di servizio, dal presidente del Rotary Club di Canicattì, nel mese di settembre, si è svolto regolarmente, diciamo, nelle scuole partecipanti, che sono dieci e appartengono, diciamo, sono scuole di Canicattì, di Ravanusa, di Naro, quindi scuole sia del primo ciclo che del secondo ciclo, e quindi si conclude domani, 22 febbraio 2019, per due motivi. Il primo perché il 23 febbraio 1905 è stato fondato il Rotary International e quindi una specie di anticipazione del Rotary Day. E poi perché, diciamo, generalmente, da sempre, il Rotary International dedica il mese di febbraio proprio alla pace, alla prevenzione dei conflitti. Quindi si tratta di un evento che ha coinvolto, diciamo, tantissimi attori del territorio e che vede protagonista, appunto, il Rotary per la pace.